All'inizio della primavera e fino ad estate inoltrata in via Piave ad Agropoli si comincia a sentire una strana puzza di fritto lungo tutto il tratto di strada che porta al centro cittadino. L'odore nauseabondo è così intenso che entra perfino nei negozi e nelle case circostanti, tant'è che nelle abitazioni la gente deve tenere le finestre serrate, mentre le attività commerciali sono costrette a chiudere le porte. I cittadini sono esausti, ogni anno si ripete sempre lo stesso problema e a quanto sembra i vigili urbani sono stati più volte avvisati, ma mai hanno preso provvedimenti. Intanto lo sfogo arriva su Facebook. Sta puzza di fritto non si sopporta, scrive un utente. Vieni al mio negozio che si sente la frittura di cuoppo da 100 metri da me, risponde un altro. Sti vestiti tra poco li devo portare in lavanderia e ancora sarà un'estate di frittura. Tutti abbraccati col potere, bisogna che i controlli scattano ad Agropoli, scattano solo foto, vedi autovelox, aggiunge un cittadino. A me veniva il volta stomaco solo a passare lì davanti in questi giorni. Io impazzirei a doverlo sopportare tutto il giorno, è un'atrocità la puzza. E infine c'è chi che per la puzza rinuncia persino ad investire in via Piave. Per colpa di questa puzza che circola salta un piccolo progetto che avevo in mente, risponde seccata un'imprenditrice.